In una sinistra popolare, quindi una sinistra che rispetta il lavoro, rispetta i lavoratori, che rispetta l'ambiente, che è contro le disuguaglianze di genere, le disuguaglianze sul piano religioso, etnico e che... E liberi e uguali non è questo? Liberi e uguali è il PD2. Lo hanno dimostrato anche con la scelta delle candidature e con le dichiarazioni che stanno facendo continuamente. E' una continua dichiarazione d'amore, ora non so se loro vogliono accettare o meno questa dichiarazione d'amore, ma è una dichiarazione d'amore sull'accordo del 5 marzo. Quindi non cambia nulla. Lei è giovanissima. Solo per la politica italiana, a 37 anni si è giovane. Cosa ha votato all'inizio del suo percorso, diciamo così, di elettrice, quindi dai 18 anni in poi? Io ho votato sempre a referendum, sempre alle amministrative e quasi mai alle politiche. E' stata una delle ragioni per cui abbiamo iniziato questo movimento, per recuperare le persone come me, della mia generazione, che sono distanti dalla rappresentanza, erano distanti dalla rappresentanza, ma che in questo momento è qualcosa che non ci si può più permettere, anche a causa della virata a destra di tutto l'arco parlamentare in Italia. Tutto. Secondo me sì. Tutto, compresa appunto la PD, insomma... Senza dubbio, il decreto dominito Irlandone è un esempio lampante. Primo atto in un'impotetica vittoria di potere al popolo? Abolizione del Jobs Act della legge Fornero, subito. Grazie. Grazie. Grazie.